La nuova carta dei servizi che stiamo approntando con l'UDU allarga semplicemente delle opportunità che già ci sono perché ricordiamo che l'UDU ha già una carta servizi però per i soli iscritti UDU che dà loro la possibilità agli studenti di avere delle agevolazioni all'interno delle attività commerciali a Teramo e degli esercenti di somministrazione, bar e ristoranti. Con questa nuova carta dei servizi, su sollecitazione degli studenti e dell'UDU, vorremmo allargare a tutti gli studenti universitari i servizi che oggi invece sono solamente per l'UDU e quindi quando avremo attivato questa nuova carta dei servizi con il semplice badge universitario cioè con l'iscrizione all'università, ogni universitario potrà usufruire degli sconti che i commercianti teramani metteranno a disposizione degli studenti. Chiaramente sono sconti che sono variabili per attività, io ringrazio la CNA, la Confesercenti e la Confcommercio che sono state disponibili e che nei prossimi giorni spero porteranno tanti nuovi commercianti ad aderire alla carta dei servizi. Vorremmo fare un pomeriggio universitario con i commercianti per promuovere la nuova carta servizi. Stiamo pensando con l'UDU e con le associazioni di categoria come organizzarla però siamo già a buon punto. Non abbiamo una data ma fra poco la pubblicizzeremo sicuramente.